accanto a me c'è una una ragazza si chiama linda in realtà anche un nome un cognome linda riverditi però te soltanto linda ti preferisco preferisco soltanto linda ma perché a parte che riverditi proprio l'hai anche visto bello bello lungo bello secco difficile riverdito di tutto mi è andato e quindi linda e poi perché ho sempre odiato il mio nome ce l'ho anche tatuato bello grosso sulla pancia quale nome linda non ti è piaciuto mai mai scusa fermati un attimo cioè aiuto tu non sei normale cioè tu odi il tuo nome linda non adesso ora non più a ora l'ho sempre odiato esatto ci ho fatto pace nel momento in cui me lo sono tatuato sulla pancia e ho detto ci devo vedere certo allora ma tu te lo sei tatuato per farci pace o avevi già fatto pace con linda e te lo sei tatuato io me lo sono tatuato per farci pace perché tutte le mattine mi guardo allo specchio vedo il mio nome e dico ok io sono linda e sono tutto quello che comporta essere linda io sono questo e devo accettarlo è più un accettare me stessa come come persona nel totale accettando il mio nome quindi linda in maiuscolo puro semplice secco ok io capisco il fatto psicologico però tra l'altro questo è un portente questa ragazza però è il fatto che tu ti chiami solo linda diventa problematico trovarti ad esempio sui social dovunque ed è una roba molto diciamo che il cognome è stato eliminato dai talent i talent hanno cominciato a togliere il cognome annalisa noemi che ne so emma elodie e altri natali eccetera ci hanno tolto il nome è quasi un allora capisco ti chiami elodie ce ne sono pochi capisco ti chiami emma ce ne sono pochi ma 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 linda ce ne sono tante di linde davvero non ne ho mai incontrata una se non me non ne ho mai incontrato una se non me ti sei incontrata tu si tutte le mattine allo specchio mi incontro e adesso ti piace si tanto però c'era un periodo che periodo molto difficile perché a livello di immagine a livello di mentalità ero un po confusa tra l'altro parlando del singolo anche intorno a quelle tali intorno ai 16 17 anni adesso ne ho 20 sembra che ne parlo come se fosse passata una vita sono passati sono passati tre anni però ho fatto credo di aver fatto un bel percorso io personalmente a livello fisico mentale e adesso sto molto bene con me stessa allora intanto voglio capire perché la musica è tanto importante per te e sai da dove l'ho notato al di là di come interprete le canzoni che è reso magistrale anche una canzone dei maneskini che è tutto dire però è al di là di quello quando c'era la sigla di we have a dream tu hai chiuso gli occhi e ti sei immersa e da lì dico ma guarda questa qui come assorbe ogni nota musicale perché la musica è tanto importante perché appunto è stata parte di questa mia di questo mio percorso di miglioramento fisico mentale cioè io grazie alla musica il fatto che comunque io debba farmi vedere dalle persone adesso quindi devo comunque cercare di mantenere un aspetto che piaccia in primis a me così che possa piacere anche alle persone che mi guardano e a livello mentale perché non riesco a vivere senza ascoltare della musica non riesco a vivere senza fare della musica di conseguenza e c'è una giornata senza quella parte lì fondamentale è noiosa cioè la vita è noiosa senza la musica non ha un senso per me almeno sai che stanno cercando di massacrare la musica e non ha più l'importanza che aveva non ha più sono d'accordo poi viene ascoltata negli affarini dei telefonini viene ascoltata non più nella hi-fi io nei primi anni 70 ho ascoltato musica una qualità hi-fi che oggi nessuno ascolta stiamo parlando di 30 anni fa e roba del genere quindi o 40 anni fa o 50 70 70 80 90 0 10 20 53 anni fa mamma mia come passa il tempo cavolo vabbè allora tu hai sempre dichiarato che la svolta della tua vita è avvenuta quando tuo padre ti ha fatto sentire una canzone di queen mia mamma tua mamma mia mamma sì i want to break free dei queen con tanto di videoclip che è fantastico e da lì è partito tutto cioè è la prima canzone che io mi ricordo di aver ascoltato avevo sei anni più o meno ero in macchina ed è partita perché avevamo collegato l'ipod di mio zio alla macchina ed è la prima canzone che è partita una rivelazione cioè io mi ricordo perfettamente quel momento lì come l'inizio della della mia passione verso la musica perché poi ho iniziato a suonare le percussioni intorno agli otto anni quando quando sono stata presa dalla banda e da lì sì 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 è proprio un punto netto la prima canzone che ho ascoltato nella mia vita almeno che ho sentito veramente bene e da lì hai ammirato anche freddi mercoli guarda ti faccio vedere un po di foto che io ho fatto freddi mercoli dal vivo e alla fine degli anni degli anni anni 30 guarda eh questa è una poi guarda questa è un'altra così ritrovi le tue origini poi alla fine è il mio mito questa è un'altra vedi questa è un'altra tanta roba questa è un'altra tu l'hai ce l'avevi così ce l'avevi, ero sotto lì invidia non commuoverti, dopo ti racconto un'altra cosa questa è un'altra per giustizia questa è un'altra lui devo dire che sul palco era qualcosa di incredibile io non ho mai visto un performer del genere lui era veramente bravissimo questa è un'altra ma questa quanto è bella l'hai visto? lui illuminato da questa farina la voglio come sfondo questa è un'altra il microfono sai perché lui tenia il microfono così? c'è rotto? no, perché lui lui imitava Jimi Hendrix per lui era come la chitarra quindi è una cagata quella che si è rotto in una data del tour ma tu hai visto il film? io ho anche visto il film è pieno di stronzate io ho anche visto il film il film è pieno di bugie come lui beh certo come lui che dichiara prima di salire sull'Eyveid che è ammalato ci sono tante cose però al di là di questo no io dopo devo dire che l'ho incontrato una volta a Sanremo diciamo partecipavamo facendo un paio di domande però dopo io quando nel 1985 ci fu l'Eyveid ci fu We Are The World e Sun City Sun City racconta una portata di Sudafrica e si invitava con Sun City a non andare in questo luogo di divertimenti sudafricano dove i bianchi che tra l'altro avevano messo in carcere Mandela avevano ucciso in carcere Biko Peter Gabriel ha fatto una canzone Biko tra l'altro adesso forse in quel disco lì dietro e eccetera e lui ha ignorato questo bando ed è andato a suonare per soldi a Sun City e allora da lì io ti è un attimo sceso sì umanamente perché non mi è piaciuto questo suo gesto tant'è vero che a Montrè mi hanno dato l'invito per andare a un parco organizzato sulla barca dei Queen che era lì a Montrè e io l'ho dato alla mia corrispondente di Londra nella vita si fanno delle cose che in quel momento ci credi la rifarei però dopo dici cazzo che occasioni che hai perso a livello professionale ma non è quello il tuo problema poi ho interesse di tanti altri quindi tu mi hai un attimo mi hai un attimo destabilizzata normale no ma no ma è bello che tu sia destabilizzata perché tu rendi quando sei destabilizzata fra l'altro ti dico una frase di Luigi Tenco che è questa che assomiglia a una cosa che hai detto tu allora Luigi Tenco gli hanno chiesto ma perché tu scrivi canzoni tristi e dice perché quando sono allegro vado al mare e tu hai detto che scrivi solo quando soffri tra l'altro ultimamente negli ultimi mesi soprattutto uscendo da X Factor ho trovato la bellezza nello scrivere quando si è felici ho trovato che riesco forse anche a esprimermi meglio quando sono felice scrivendo cose tristi perché? perché in quel momento sono felice e le cose tristi sono molto più tristi di quando sei triste scusami no no è bellissima questa perché è vero perché quando se sei triste sei dentro la tristezza esatto ma quando sei felice cavolo si sta anche bene si sta benissimo io sto benissimo adesso ultimamente sei felice? sto benissimo e sto scrivendo veramente tanto sono già lavorando all'album hai parlato di X Factor tu sei stata una rivelazione all'X Factor perché io ho visto perché non in diretto ma mi è stato mandato Massimo Lecce mi ha mandato il video di quando tu fai la prima fai interpreti Coraline dei Maleskin dei Maleskin e e e commuovi tutti c'è addirittura qualcuno che si asciuga le lacrime eccetera no? ecco che cos'è per una come te che A non ama il suo nome perché quando sei notato ci fai tu non l'amavi ancora no B si trova in un ambiente così che vi che cioè per fare musica attenzione dove devi fare canzoni degli altri non puoi fare le tue canzoni come ci si sente? in quella in quella bolla la bolla in quella bolla soli estremamente soli io durante tutti i mesi a X Factor dal momento in cui ho fatto la prima audizione quindi ti parlo di giugno del 2022 fino all'8 dicembre e dopo io mi sono sentita letteralmente in una bolla io all'interno tutto il resto al di fuori tutte le persone tutte le preoccupazioni c'era solo quello e ci ho messo un attimo a riprendermi dopo dopo X Factor a tornare in contatto con la realtà ci si sente soli attenzione è che tu sei andato molto bene in X Factor perché sei arrivato tra i quattro finalisti eccetera immaginati quelli eliminati prima sono stati meno ah sono stati meno è stato è stato il proprio la durata della cosa che mi ha destabilizzata sono stati comunque due mesi in cui ho vissuto all'interno della casa dei concorrenti che rispetto ad altri programmi è poco però sono stati due mesi intensissimi due mesi più tutti quelli prima in cui ero a casa sì ma sapevo che avrei fatto X Factor quindi già mi sentivo in quella roba lì ma non lo ero ancora quindi è una cosa stranissima perché io l'ho sempre guardato X Factor da piccola e farlo a 19 anni è stato così a caso poi perché è successo non l'ho cercato cosa c'è scritto qui euforia cos'è euforia è il sentimento più bello che c'è l'euforia sì e sotto cosa c'è scritto in una lingua strana è la pronuncia ah I'm living for the thrill for the thrill il brivido ah ti piacciono i brividi sì la musica è tutto un brivido c'è un brivido che mi porta via c'è anche la canzone ah 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 senti allora veniamo a quello che è il tuo primo singolo 17 anni panico allora tanto per cominciare non è un video voi lo chiamate visual ma per me è un bellissimo videoclip davvero? sì grazie per me questo è un videoclip grazie io peraltro amo i piani sequenza cioè non amo i tagli e lì tu nella notte interpreti questo con una anche se sei piccolina nello schermo perché tu sei piccolina sotto ci sono i testi tra l'altro è bello che ci siano i testi anche perché cioè cos'è questa mania di mangiarsi un po' le parole? in che senso? cioè che non cantate è una roba è una roba che la prima volta che lo sento è sentita da Madame questo coso di di masticare un po' esatto perché? forse perché è più morbido non lo so a me cioè in realtà non ci penso neanche quando canto credo no ma quello si vede credo sia proprio il modo in cui si fa non lo so allora non so non ci ho mai fatto caso questo 17 panic panico è un momento che oggi non c'è più perché quando tu hai fatto 17 panico non ti piaceva il nome Linda quando hai fatto 17 panico eri diciamo ce l'avevi con i tuoi genitori si con me stessa con i miei genitori con i miei amici con chiun col mondo non volevo neanche uscire di casa eh e hai fatto questa canzone però è molto bella perché secondo me tanti ragazzi si identificano in questo tuo sentimento purtroppo si che reazioni hai da questa tua canzone tanti ragazzi che vengono a dirmi anche io anche io sono messa così e non ho nient'altro da dire se non mi dispiace perché ammetto che è stato veramente un periodo molto difficile che non pensavo sul momento non pensavo neanche di superare ma per problemi miei perché poi vabbè non andiamo in quel vortice di roba lì perché dovrei parlarne per ore ma no ma si sintetizza anche in un minuto diciamo che molto semplicemente c'era un'idea nella mia testa che era finiamo tutto e siamo posti così con 17 anni di vita e va bene cioè tu pensavi toglierti la vita? sì più volte ci ho anche provato bene allora visto che sei in questo mood ci vediamo il video ascoltiamo la canzone e poi dopo invece diamo la speranza perché ne sei uscita adesso sto benissimo sto veramente bene allora questa è Linda il brano è 17 anni Panico e parlo di te che non mi sa capire e penso che te non mi vuoi venire incontro forse sono forte il dolore che provo potrei anche dirti dove cazzo mi trovo ma ma tu non lo saprai mai no no tu non mi vuoi sai non ci stai che ci fai in quella casa a quattro mura sei cambiata sai parli solo non fai niente sei incazzata poi Panico ma c'ho 17 anni eh e riverso in tutto su di me e che cazzo state a fare mi create solo pare sareste voi a dovermele togliere sareste voi a dovermi crescere voi voi cercare di capire non io non io non io dovresti voi cercare di salvaguardare la mia salute mentale per farmi continuare creata per sognare tu mi hai fatta poi cadere poi non riuscivo più ad alzarmi quasi tagliato le vene tu proprio non capisci che per me è così importante non ti voglio bene Panico che c'ho 17 anni eh e riverso in tutto su di me e che cazzo state a fare mi create solo pare sareste voi a dovermele togliere sareste voi a dovermi crescere voi voi cercare di capire che c'ho 17 anni e riverso in tutto su di me e che cazzo state a fare mi create solo pare sareste voi a dovermele togliere sareste voi a dovermi crescere voi voi cercare di capire non io 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 che a 17 anni mi ritrovo a fare spalli per potermi insegnare te che ti tuffi nell'erba che non si capisce che c'è l'erba perché vedi la cosa strana è questa che sembra tutto negativo no? sembra buio tu con questo farro no? tranne qualche farfalla qualcosa che ci parla sta davanti no? ma quando tu ti tuffi giù e sei nell'erba è bello è bello lo so c'è il bello lo so quindi alla fine di questa canzone c'è stato il bello ecco come hai fatto ad uscire da questa situazione? è stato un percorso che ho fatto in solitaria nel senso che non non ho cercato aiuti da medici psicologi o quant'altro ho fatto io e il mio migliore amico ci siamo dati due sberle vicende ci siamo detti svegliati svegliati e non so cosa è successo un giorno mi sono svegliata e stavo bene cioè da un giorno all'altro letteralmente mi sono svegliata e io stavo bene poi c'è stato anche un motivo significativo che è stato dopo X Factor un momento significativo che è stato molto difficile è stata una decisione molto difficile per me da prendere presa quella decisione lì io mi sono svegliata la mattina e adesso sono esattamente tre mesi che sto bene tutti i giorni pensavo di averla data però ce l'ho in mente non ce l'ho in mente sì tutti i giorni stai bene tutti i giorni non ho avuto ancora un giorno in cui sono stata male tre mesi tutti i giorni sto benissimo non ho più niente di buio di mostri niente sto bene ma è successo qualcosa hai sognato qualcuno no ho preso una decisione che mi ha stravolto la vita uguale la puoi dire? no ah ok però sì cioè mi ha cambiato la vita adesso sto bene sto bene e l'importante è quello e i tuoi genitori hanno capito che adesso stai bene? sì lo sanno mio papà è felicissimo adesso mia mamma è fantastica il mese scorso per il mio compleanno mi ha regalato un viaggio io e lei siamo andate a Fuerteventura una settimana bello Fuerteventura into the wild totale e ho ritrovato anche lì un po' di pace sono stata in silenzio una settimana perché con mia mamma ci avevo da vent'anni quindi non abbiamo più tanto di cui parlare e siamo stati in silenzio ed è stata veramente una come fare una seduta spiritica non so come si dica comunque è stato come fare veramente mi sono depurata sono tornata dopo aver fatto il bagno nell'oceano ho detto ok ma stavi già bene stavo già bene ma sono proprio arrivata al Nirvana al Nirvana al Nirvana ho scritto un sacco quella settimana un sacco ma cosa scrivi tu? scrivi parti scrivendo dei pensieri sì e poi dopo la musica la fai tu la musica vado in studio e insieme al produttore mettiamo insieme le idee e tiriamo fuori qualcosa perché io purtroppo non so usare i programmi cioè so suonare il pianoforte ma non so usare il computer per aiutarmi a fare magari hai sentito la base di panico ha tanti layers ha tanti suoni ha tante cose tante entrate e quindi quella roba lì io non la so fare vorrei imparare però ma imparerai sì cioè tu mi sembri una che tutto ciò che vuole lo tiene spero sia così per ora è così effettivamente sai da questa canzone si capisce che tu ti sei anche un po' ribellata per un periodo nei confronti dei tuoi genitori non so se sono entrambi o solo uno sono stata sbattuta di casa da uno poi dall'altro poi dall'altro siamo separati ah sono separati a che età si sono separati si sono separati quando avevo l'ultima volta perché hanno avuto dei revival dopo cinque anni che si erano lasciati si sono rimessi insieme che io avevo 16 anni ed è stato il periodo peggiore della mia vita appunto 16 17 si sono lasciati quando ne ho compiuti 17 poi ci sono state le liti post lasciarsi di nuovo c'ero di mezzo io ovviamente perché c'ero di mezzo perché non si parlavano ero il tramite l'avvocato tu a 17 anni li mettevi insieme si infatti è una canzone cosa dico certo ma questa canzone quindi è storia passata ormai adesso si si cosa stai scrivendo adesso adesso sto scrivendo appunto di questo mio percorso verso la vetta di quello che io credo sia il mio successo personale qual è qual è la vetta cosa vedi là in cima l'euforia della vita l'euforia e torna fuori però l'euforia allora c'è chi dice che quella che tu chiami euforia la si può avere soltanto quando andiamo nell'altra dimensione quelli che hanno avuto un'esperienza pre-morte che tutti credevano fossero andati e si trovano vedono questa luce questi colori bellissimi eccetera e tu pensi di trovarli in vita l'euforia assolutamente io aspiro a quello ci sono andata già vicino un paio di volte devo dire e c'ho vent'anni quindi credo di riuscire ad arrivarci quando dici che ti sei andata un po' vicino incroci le braccia vuol dire che ti stai chiudendo teo ma continui a destabilizzarmi tu io ti destabilizzo? si mi leggi troppo bene ma ti leggo troppo bene bambina ma sei tu che ti fai leggere vedi tu allora ti faccio un esempio ok ci sono tanti animali che si autodifendano no poi ci sono degli animali che hanno bisogno di un guscio vedi le tartarughe capito quelli che vanno dei pagù quelli che vanno dentro le conchiglie gli armadilli che hanno queste cose i ricci i ricci ecco tu sei come un riccio un riccio non sei il primo a dirmelo ah sei? te lo giuro tu sei come perché i ricci hanno gli aculei però il pancino è morbido morbido tra l'altro una cosa simpatica riguardo i ricci mentre giravo il video nel prato c'era un riccio è certo c'era un riccio ma non ci sono le coincidenze perché ho tirato fuori i ricci e ti dicono c'era un riccio eccetera perché la comunicazione che c'è oggi è molto più veloce hai visto quanto ci hai messo tu a risolvere dei casini che avevi hai fatto click una volta era più lento tutto più lento una volta vero non è come adesso vero anche la musica eh? anche la musica era più lunga no quella è sul progressive però la musica lo vedo anche come un la musica migliore di sempre non perché era nella mia adolescenza era dal 66 al 69 quei tre anni tu prendi qualsiasi disco qualsiasi brano fatto in quel periodo è storia va bene e se ami la musica affonda le radici in quella musica lì però chi ti piace a parte i Queen? di vabbè Beatles Beatles poi abbiamo gli Abba ti piacciono gli Abba? si mi piacciono gli Abba ma penso li ho suonati qui da franzi a qualche disco di gli Abba mi piacciono gli Abba eh sto avendo un attimo un un vuoto di mente di nomi di artisti aspetta vabbè non è importante vabbè poi Battisti Battisti è l'amore mio io vorrei avere la capacità che è lui di descrivere l'amore guarda che quello è Mogol com'è? quello è Mogol in che senso? i testi gli erano fatti i Mogol ma com'è che io non la so sta roba? cioè tu credevi che Battisti scrivesse quello che canta? si tu mi hai uccisa non t'ho ucciso ti ho detto la verità tutti i testi sono di Mogol ma perché non la sapevo questa cosa? è Mogol il poeta ma perché non la sapevo? allora tu non sapevi questa cosa per un motivo molto semplice perché nessuno oggi vi racconta più la musica guarda tra l'altro qui dietro guarda qui dietro ho la firma di Mogol eh? su questo disco perché? perché il testo italiano di David Bowie l'ha fatto lui Space Hobbit ma neanche uno neanche una canzone è di Battisti quindi era solo lui lui faceva la musica era un binoglio distrutta era un binomio perfetto però lui le cantava bene le interpretava le faceva sue ma tutti i testi sono di Mogol ok buono sapersi quindi sai cosa facciamo io e te? dimmi un giorno non so quando tu vieni qui sì ok poi ci ascoltiamo un po' di dischi e ti racconto un po' di visto che ami così tanto la musica ti racconto un po' di storie guarda come ci chiude no sono offendice perché veramente scopresti le cose sono dei testi bellissimi sono delle cose fantastiche ci mettiamo lì con i vinili e poi ci giochiamo perché di solito sono io quella che lo fa con gli amici e mi sento sempre di di rompere un po' perché sono sempre lì che ogni volta che parlo sto parlando di magari una canzone e sto spiegando tutto quello che è quella canzone lì e loro magari dopo un po' mi dicono che due palle che due palle io avete ragione però vorrei che fosse il contrario bene arriverò a portarti a dire che due palle va bene let's go aia ah cavolo è vero e ho la mano ancora ferita è la prima volta che sto un piccolo però ne vale la pena ne vale la pena va bene ok senti Linda allora quindi tutto quel periodo dove tu hai visto piangere perché ti attaccavano sui social è finito cioè ma stai ancora a leggere i commenti mai neanche ma cosa ti scrive dove va per farti piangere eh cattiverio ma anche adesso me le scrivono ma non me ne frega più niente cioè sto stavo talmente male con me stessa che alla minima cosa crollavo adesso invece proprio mi metto a ridere cioè mi fanno ridere perché sai dove andare perché ridi no è vero perché sai c'hai un obiettivo c'hai una vetta no il climax sono curioso di ascoltare tu nove canzoni sai perché secondo me sono anche perché tu vedi allora primo prima di nascere tutti noi facciamo un contratto seguiamo i genitori quindi è inutile arrabbiarsi con i genitori dei scelti capito ma anche i genitori cattivi e mi dispiace non sai che karma avevi e facciamo un contratto dove accettiamo il compito che abbiamo Batteato cantava siamo angeli immortali caduti nel tenebre senza più memoria destinati a errare nei secoli e nei secoli fino a completa guarigione quindi noi abbiamo perso la memoria di chi eravamo perché se tu la prima volta che ascolti un brano musicale rimani così colpita significa che la musica faccia parte anche della tua vita precedente quindi è inutile arrabbiarsi con i genitori eccetera e sappiamo il contratto che abbiamo firmato il contratto che abbiamo firmato non ne hai per noi stessi cioè io accetti di diventare ricco sì accetto di diventare ricco accetti no cosa dai tu agli altri? quali problemi interni hai devi risolvere e tu uno l'hai già risolto enormemente perché con un click sei velocissima e sei in linea con quello che c'è oggi puoi anche togliere questi qui perché è una cosa bella che ti dico sei in linea con quello che c'è oggi perché tutto è veloce oggi quindi tu hai un compito la tua sofferenza ti serve per aiutare gli altri a uscire dalla sofferenza che hai avuto tu e che hanno loro sono cazzi linda quella è la vetta aia bello ok lo prendo con piacere prima di salutarti e vedere Coraline che tu mi hai fatto una versione di Coraline è bellissima se uno ti cerca nei social cosa deve scrivere? Linda Riverditi nome e cognome ci hai messo un po' a dirlo è proprio ti è uscito uffa devo dirlo è che è proprio lungo Linda Riverditi comunque fai una roba cambia il cognome taglialo un po' Linda Riverditi brava vedi che l'hai già capito vedi che sei veloce mi chiamavano così alle medie e vedi allora ti chiami Linda Riverditi che vuol dire sponda vuol dire fiume eh lo so e su c'è un fiume in piena fai così va bene ci penso pensaci ci penso perché hai scelto Coraline? tra l'altro ti ha portato molta fortuna perché tu sei entrata a X-Factor con Coraline Coraline me l'ha fatta sentire una persona speciale nella mia vita e essendo che comunque parla anche Coraline di questa lotta alla fine cosa dice il testo? Coraline Coraline dimmi la tua verità guerra dal cuore zelante il testo dice tante cose che io mi sono cantandola ho detto a me stessa e ho detto alle persone che hanno ascoltato col cuore quella canzone lì perché io quando l'ho ascoltata per la prima volta mi sono emozionata e raramente mi succede di piangere per una canzone ma per il testo proprio allora veramente ti succede di piangere per una canzone però nella tua vita hai pianto parecchio sì e adesso? adesso non piango più tanto piango quando sono felice piango tantissimo mi piace mi piace perché prima avevi detto scrivo le canzoni quando sto male adesso invece scrivo le canzoni quando sto bene perché non ero mai stata così bene da riuscire a scrivere così bene anche del male più approfondito ancora non ero mai stata abbastanza bene da capire il male così quando esce il tuo disco? eh non lo so quando è pronto un mese cinque mesi un anno un anno cioè dobbiamo aspettare un anno per non lo so ancora vediamo vabbè magari se in autunno c'ho premiato il cerco vieni qui fai in anteprima qualcosa va bene va bene adesso ho in programma dei pezzoni e poi si vede ok ok lei si chiama Linda e no dimmi ci saranno dei singoli ci saranno dei singoli ah ah ci saranno dei singoli si 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 ah ok ok certo certo singoli quando in autunno fine estate fine estate e allora ci vediamo ok vi do appuntamento si salutemi il tuo papà come si chiama Edo Edoardo Edoardo non so come hai fatto ma hai fatto una figlia molto molto in gamba quindi si si ne conseghi orgoglioso ciao Edoardo qui abbiamo fatto anche un saluto al tuo papà grazie grazie mille c'è spuglietto eh un pochino hai visto eh bello allora sono emozionata cavolo eh mi hai emozionata perché non so boh è stato bello sei sei dentro qui dentro c'è la storia della musica la sento addosso cioè qui ci sono tra qui e di là c'è un 40.000 dischi no no ma infatti la sento senti proprio e c'è e c'è e e e questi sono vinili cioè quando tu prendi Tori Amos dentro c'è lei che mi ha raccontato che è stata violentata quando era una ragazzina c'è tutta la sua cosa eh qualsiasi disco prendi quando prendi Certain Ratio era un gruppo un gruppo fantastico questo è solo là perché stavo facendo là quando prendi qui ci sono delle robe quando prendi Alternative TV qui c'è la ribellione quella la cosa alternativa ci sono Willy Loco Alexander vedi questi qui and the boom boom band un gruppo fantastico un gruppo di rats di di questo qui che sono questi qui questi sono gli Aeros questi li conosci però però qua questo è il primo è il primo di Adel credo Adel 19 vedi lei lei è mai incontrata no ma lei no qui c'è Jazz c'è di tutto Canova Ladderley Arctic Monkeys c'è di tutto qui però non ti qui qui c'è vedi firmato da lei fra l'altro o Superman di Laurie Anderson di cui nessuno ti ha mai raccontato la storia lei è diventata moglie di Lou Reed Lou Reed sai chi è? no no mamma mia quanto ti devo insegnare ti prego Lou Reed era nei Velvet Underground e si lo riconosco eh quelle che le copertine le aveva fatte in The World con la banana ho capito ho capito ho capito poi Lou Reed ha fatto delle cose incredibili Lou Reed lei era la sua compagna e ha fatto Superman che era tutta tra l'altro per me cosa? niente bello capito? quindi la storia e tu sei entrata nella storia anche se sei ancora piccolina sei entrata in questa storia e quindi è giusto che tu conosca le radici sì perché non mi sento di farne giustizia perché io la musica la faccio perché mi piace però non non la conosco bene sì ma la musica che tu fai per chi ti piace deve servire agli altri per aiutarli questo è l'ordine che ti viene dato va bene ok? ok ciao Linda ci vediamo la versione bellissima che ha fatto di Coraline e io saluto Linda benvenuta dimmi le tue verità Coraline Coraline dimmi le tue verità Coraline 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 bella con sole guerriera dal cuore del cuore che ha il cuore zelante capelli come rose rosse preziosi quei fili di rame amore portali se senti campane cantare credrai Coraline che piange che prende il dolore degli altri e poi lo porta dentro Coraline Coraline dimmi le tue verità Coraline Coraline però lei sa la vita non è per tutti andare avanti con il cuore che è diviso in atto è freddo già e una bambina però sente come un peso prima o poi si spezzerà e la gente dirà per niente non riesce neanche a uscire da una misera porta con un giorno una volta lei ci riuscirà ho detto Coraline che può crescere prendere le sue cose e poi partire ma credo un mostro che la tiene in gabbia che che le ricopre la strada di mine ho detto Coraline che può crescere prendere le sue cose e poi partire ma Coraline non vuole mangiare no se Coraline vorrebbe sparire Coraline piange Coraline la se Coraline vuole il mare ma pure dell'acqua forse il mare è dentro di là e ogni parola è una esce un taglio sulla schiena come una zattera che naviga in un fiume in piena e forse il fiume è dentro di là di là sarò il fuoco sarò il fuoco ed il freddo coralline soltanto un sorriso ogni tua piccola lacrima e oceano sopra il mio viso e in cambio non chiedo niente solo un po' di tempo sposare o vestito e scudo o la tua spada d'argento e e coralline piange e coralline la se Coralline vuole il mare ma pure dell'acqua forse il mare è dentro di là e ogni parola è un ascio un taglio sulla schiena come una zattera che naviga in un fiume in piena e forse il fiume è dentro di là di là dimmi le tue verità coralline coralline dimmi le tue verità coralline coralline in coralline bella come il sole ha perso il frutto del suo ventre non ha conosciuto l'amore un padre che di padre niente ne ha detto in città c'è un castello comune talmente potenti se ci va a vivere dentro non potrà colpirti più niente non potrà colpirti più niente mogol ha visto aspetta dov'è eccolo qua mogol ha visto che lei non sapeva che le canzoni fossero di mogol e mi ha scritto grazie red respons- c'è il tuo o no grazie red improvvisamente è il tempo grazie red dice scrive mogol responsabili di questa ignoranza sono alcuni giornalisti che citano solo Battisti un abbraccio Giulio e io gli ho risposto la colpa è nostra dovremmo fare programmi di divulgazione musicali io li faccio ma sono il solo e lui mi ha risposto sono d'accordo quindi questo è è mogol che ha visto questa ha visto Linda e che non sapeva che le canzoni Battisti le avesse scritte lui e fra l'altro è stato bello mogol che ha detto cioè si è messo a ridere anche per prima poi ha riso perché mi ha chiamato ma ha scritto Daniela che è sua moglie e ha detto mogol sta ridendo devo dire onestamente che io non sapevo minimamente chi fosse Linda non guardo X Factor non guardo la televisione lei è arrivata a terza X Factor non ne ho volutamente parlato della classifica tranne dell'aspetto umano non mi interessa come mi interessano tutti gli altri pettegolezzi eccetera però la cosa che mi interessa è questa Massimo Recini che è un mio amico mi ha detto Red ti porto un artista interessante io sono abituato a fidarmi delle persone soprattutto degli amici gli ho detto ok vieni non sapevo neanche chi fosse l'artista che mi portava io ieri gli ho proprio scritto ma scusa come si chiama fra l'altro gli ho anche scritto capito perché mi fidavo poi mi ha mandato i video e ho detto porca puttana ma questa è bravissima poi l'ho incontrata oggi se avete visto le storie di Instagram quando è arrivata oggi siamo andati a mangiare al Ducca e ci siamo un po' conosciuti perché io quando sono non parlo mai perché poi amo parlare dopo quindi quindi e quindi sono lei è una lei è un artista mi spiego meglio in teoria tutti sono artisti no ci sono gli artisti ci sono i mestiranti lei è un artista mi spiego